Sono arrivati gli svitatelli nelle merendine Kinder e Ferrero. Che bello! Giro la testa, scambia le zampe, crea l'animale, più svitato che c'è. Gli svitatelli li puoi combinare come vuoi tu, togli la coda, mettila là. Con gli svitatelli tu puoi giocare, tanti animali, puoi fimentare. Ma poi tornano come prima? Con gli svitatelli tutto puoi far. Dieci svitatelli, da oggi nelle merendine Kinder e Ferrero. Gli svitatelli!